Finalmente è fatta, Alessandro Florenzi presto sarà un nuovo giocatore del Milan perché il Milan e la Roma hanno finalmente trovato l'accordo, accordo definitivo, totale, è fatta, il Milan ha in queste ore lavorato per sistemare gli ultimi aspetti burocratici, gli ultimi aspetti tecnici per l'ok definitivo all'operazione. Importante è anche la volontà di Alessandro Florenzi che ha comunque rinunciato ad una mensilità, questa mensilità è servita anche per avvicinare le due squadre Milan e Roma per trovare un accordo definitivo. Ma ora dopo tanti giorni di attesa è fatta, il giocatore sarà a Milano nelle prossime ore, sosterrà le visite mediche con il club rosso-nero, poi naturalmente firmerà il suo contratto e probabilmente sarà anche convocato da Stefano Pioli per il match di lunedì contro la Sampdoria. Quindi, importante notizia della serata, Alessandro Florenzi è fatta, sarà un nuovo giocatore del Milan, accordo totale tra Milan e Roma. La formula, allora, un milione di prestito oneroso, 4 milioni e mezzo diritto di riscatto da esercitare entro giugno 2022. Il Milan ha quindi un anno per esercitare il riscatto di Florenzi, che ribadiamo ha voluto molto chiudere questa sua esperienza alla Roma, che alla fine praticamente era già chiusa da diverso tempo perché è andato prima in prestito al Valencia, poi in prestito anche al Paris Saint-Germain. Il Milan ha colto l'occasione e ha voluto acquistare un giocatore d'esperienza, un giocatore importante, importante non solo dal punto di vista tecnico, perché può essere schierato in diversi ruoli, ma anche dal punto di vista dell'esperienza. Il Milan ha acquisito un giocatore che porta anche mentalità. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso ha giocato molte partite da titolare con la magna del Paris Saint-Germain, che è arrivato fino in fondo alla Champions League. Oppure possiamo fare l'esempio di Florenzi, campione d'Europa, perché ha vinto gli europei con la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Quindi si parla di un giocatore pronto, un giocatore trentenne, che ha tanta esperienza, aveva voglia di chiudere definitivamente col suo passato, il passato romano, e aprire il capitolo milanese. Un capitolo a tinte rosso-nere, perché nelle prossime ore il giocatore sosterrà le visite mediche e poi firmerà con la maglia del Milan. Quindi si può dire telenovela finalmente conclusa, dopo tanti giorni, lo avevamo detto che era vicinissimo il giocatore, serviva solamente l'ultimo ok che è arrivato. È stata però una giornata molto intensa per il mercato del Milan, perché oltre a Florenzi il Milan ha incontrato anche i procuratori di Bakayoko in sede a casa Milan. Il discorso è stato molto positivo perché c'è un accordo di massima tra la dirigenza rossonera, Paolo Maldini, Frederic Massara e l'agenzia First, che cura gli interessi del giocatore francese. L'idea di Bakayoko è tornare in Italia e ritornare a vestire la maglia del Milan. Si ragiona a questo punto su un prestito, perché la formula che il Milan vorrebbe intavolare con il Chelsea è proprio quella del prestito con diritto di riscatto. Il contratto di Bakayoko inizialmente scadeva nel 2022, ma è stato prolungato in maniera unilaterale dal Chelsea fino al 2023. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il Milan ha la possibilità di fare un prestito almeno di un anno di diritto con il diritto di riscatto. Se invece il contratto scadeva nel 2022, l'unica soluzione era quella di prendere al titolo definitivo. Anche se non è stato comunicato ufficialmente, come era avvenuto invece per Giroud, il prolungamento di contratto fino al 2023, i procuratori di Bakayoko fanno comunque sapere che il Chelsea ha prolungato il contratto del francese. Questo permetterà al Milan di scegliere la soluzione del prestito con diritto di riscatto. Ed ecco perché Bakayoko ha scavalcato anche Adli come giocatore nelle preferenze a centrocampo. La dirigenza voleva puntare su Adli, ma le richieste del Bordeaux rimangono alte, di circa 10 milioni di euro, mentre Bakayoko si riesce a prendere con molto meno e con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ora non resta che trattare con il Chelsea, che comunque ricordiamolo non è semplice dialogare con i Blues, però è anche vero che il Milan ha aperto questo varco e proverà a prendere Bakayoko dal Chelsea. Questo però non esclude definitivamente Adli perché se dovessero abbassare le pretese in Francia, il giocatore potrebbe anche arrivare a fine mercato, nelle ultime ore di mercato, però il Bordeaux non può, secondo il Milan, chiedere 10 milioni di euro. Quindi il centrocampo dovrebbe essere formato da Bakayoko, Tonali, che saranno le riserve di Benasser e Chessy, c'è il Jolly Krunic e vediamo se poi alla fine arriverà anche Adli, Yassin Adli. Abbiamo parlato di Florenzi che è fatta, Bakayoko molto vicino, trattative serrate che si va avanti, ricordiamo anche il nome di Pellegri. Nel video precedente abbiamo parlato di Pellegri, è la soluzione per l'attacco, il terzo attaccante che il Milan voleva fare per metterlo alle spalle di Giroud e Ibrahimovic, che saranno ovviamente i titolari, però Pellegri assicura comunque la presenza di un altro giocatore in caso di necessità durante la stagione, è vero che c'è un po' di scetticismo nei suoi confronti per le condizioni fisiche degli ultimi anni, però se andiamo a vedere il curriculum di Pellegri ci balza gli occhi anche il fatto che è stato uno dei giocatori più giovani ad esordire in Serie A, i più giovani a segnare e a fare anche una doppietta, addirittura due gol contro la Lazio, se non sbaglio a 16 anni. Poi però l'avventura al Monaco non è stata fortunata per lui, tanti infortuni, ha giocato poco, l'anno scorso se non sbaglio 17 presenze e un gol, ha il contratto in scadenza nel 2022, quindi l'unica soluzione anche in questo caso è quella di rinnovare con il Monaco, diciamo un rinnovo col Monaco e provare poi a prendere il giocatore in prestito. Questa è l'idea generale del Milan e della società francese che comunque stanno parlando, stanno dialogando da diversi giorni, anche il procuratore di Pellegri nelle ore scorse ha incontrato il Milan in sede, con il giocatore naturalmente è tutto ok, anche perché per Pellegri sarebbe un'ottima opportunità, a 20 anni giocare nel Milan e allenarsi con Giroud e Ibrahimovic, penso che sia il sogno di ogni ragazzo. E quindi attenzione a Pellegri perché è un nome per l'attacco, manca quindi soltanto l'ultimo tassello, quello più importante e ovviamente parliamo del trequartista. Vedremo nei prossimi giorni, mancano ancora una decina di giorni da qui alla conclusione del mercato, però insomma il trequartista deve essere, dovrà essere il grande colpo finale del mercato rossonero. A presto per un nuovo video e altri aggiornamenti.